che lo va a cercare adesso parto un cross morbido Romagnoli ci arriva, attenzione piazza cerca il tiro subito, Donnarumma ci arriva che tira, palla viva deviazione, calcio d'anno attenzione, cerca l'appoggio, Di Bala penetra, Di Bala, ancora un dribbling e piazza, prova lui L'abito ha detto ma io ho dato il vantaggio però, il contatto eccolo qua nettissimo, poi il tiro anche già due volte, Di Bala, gran controllo prova il tiro, Donnarumma non salta, a rimarco Iguain mette giù, Iguain, destro secco Donnarumma che giocate Iguain, che esaltano Mangiudice, Dani Alves attenzione, Benatia tutta solo mette dentro, mette tutto regolare, tutto regolare la Juventus ha il vantaggio Benatia, come un centroavanti e come nasce Sandri, da una seconda palla recuperata, anche Benatia parte il cross, per lui ancora Bonucci all'indietro, tentativo spazza via attenzione, Bonucci è uscito ma c'è buono il tocco per Deolofeu Bacca in mezzo, Barzagli in segue Deolofeu a cercare Bacca attenzione, controllo Rete, Rete, Bacca posizione regolare anche per lui il pareggio del Milan contropiede, Bici di A e questa è la caratteristica della squadra di Montella tutto l'anno di questa, di poter ricevere e venire fuori molto bene nella situazione Pjanic riflette poi parte subito il destro Donnarumma movimento lui, attenzione Piazza a doppio passo va sull'esterno verso Iguain Chedira Donnarumma si salva Palla viva attenzione il destro secco in Piazza troppo l'azza Chedira battuto corto Pjanic potrebbe anche provare il tiro prova deviazione Donnarumma sulla traversa con molta fortuna stavolta davvero attenzione al cross eccolo teso verso Kuzka lo ci arriva classico tiro c'è sbaglia tutto Bertolacci attenzione Ocampos cerca spazio per il tiro eccolo rivido a voi Juventus e Di Bala cerca un'idea eccola Chedira prova lui Donnarumma Iguain girata Donnarumma ancora eccezionale calcio d'angolo che portiere verso Iguain controllo tiro Donnarumma miracolo non è finita Nick Steiner deviazione attenzione forse con la mano calcio di rigore incredibile calcio di rigore tutti col fiato sospeso parte Di Bala sinistro secco Rete Rete non sbaglia di Bala esplode lo Juventus Stadium